Ancora un'aggressione ad un minorenne, un ragazzo di 15 anni, che è stato rapinato del cellulare nella zona delle scale mobili di Arezzo. L'episodio è accaduto lo scorso 22 gennaio a raccontare quanto accaduto è stato il padre della vittima. Il giovane si trovava assieme a due amici coetanei quando è stato fermato da un gruppo di ragazzi dai 17 ai 18 anni incappucciati che brandendo una bottiglia di liquore si sono fatti consegnare il telefonino. Un episodio che sicuramente fa molto riflettere e che si aggiunge a quelli già accaduti nella stessa zona. Intanto proseguono i controlli nei luoghi della movida aretina, quattro i giovani fermati dalla squadra volante della questura di Arezzo nell'ultimo fine settimana all'interno del parcheggio Cadorna, fatti questi che però non sono in collegamento con quanto accaduto nella zona delle scale mobili. I giovani sottoposti a perquisizione personale sono stati quattro, due di 17 anni e due di 31. Uno è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico, mentre ad un altro, occultata nel risvolto del cappellino, è stata trovata una dose di sostanza stupefacente nello specifico hashish. I giovani sono stati accompagnati presso la questura di Arezzo e denunciati, uno per il porto d'armi e oggetti atti ad offendere e l'altro è stato invece sanzionato per il possesso di modica quantità di sostanza stupefacente.